si è no ma è grossa è grossa andremo in mezzo alla nebbia che brutto ma vediamo tanto ci vuole noi ancora si si a me pare che sta peggiorando più che altro ed ecco mauro bravi ragazzi ok ok dai passa pure quell'altro questo pezzetto è carino dai che devo stare abbassati si è finito quello è finita? si cioè c'è più ferrata? si ah c'è ancora questo pezzo è quello più ribbio no è già finito il busto no sinceramente lo sei sincero? la ferrata è bella tutto ora rompe le valle no no questa è bassa infatti a me mi sta spaccato la schiena c'è tutto appeso sulla schiena c'è tutto appeso sulla schiena per stare abbassate così per stare abbassate così per stare abbassate così girando ed ecco quella è la via che sale su da Franchitti vada vada ah a massa che vado qua ragazzi eh non è ferrata qua che c'è eh? ma non c'entra ferrata il caschetto si mette perché questa queste vie sono non c'è possibilità che cadono sassi quindi non c'è non c'è certo sei sicura però se noi passiamo da qua io ti ho qua ho fatto un attimo alla fine vedete c'è ma si pare neanche più facile qua è più facile qua è più facile basta sempre con la colla Sì, ora ti rimando l'atto io. Aspetta un attimo, dove vai? Oh, è tutto per vedere se noi siamo messi qua. Così dire, è meglio che mi scende qua senza un te, si attacca la guarda al primo, o no. Aspetta i sassi, è nuovo. Se devi guardare i sassi, attento. Dai, quando stai da solo? Sì. Un conto? E' compagnato? E' più facile salire dalla Ricci. Quella è la vetta più alta, 2912 metri. E' più difficile? No, è facilissima quella. Però bisogna girare dall'altra parte, giusto? Si è fatto la via, lì lì l'ha filmato con quella telecamera. Quella telecamera? Ce la compro. Quella è stata cascata adesso? Cos'è che vedi lassù? Si è comprata? Si. Vai a nulla che cammina, vai.